Bella raga, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Oggi vi porto un metodo per andare in OTR, cioè stare fuori dei radar che la gente non vi vede nella mappa In eterno ragazzi potrete morire e non succederà nulla Requisito il nostro amico che ci aiuta e dovrà avere il Knight con all'interno il Terrorbyte E lui dovrà essere all'interno del Terrorbyte ragazzi A questo punto noi possiamo aspettare fuori in qualsiasi punto della mappa che ci mandi l'invito all'interno del Terrorbyte Una volta che il nostro amico ci ha invitato all'interno del Terrorbyte non ci resterà nient'altro che accettare l'invito Una volta che siamo all'interno del Terrorbyte ragazzi semplicemente dobbiamo dire al nostro amico di mettersi sulla porta d'uscita del Terrorbyte In modo che lui in alto a sinistra abbia l'opzione per fare tutti fuori ragazzi A quel punto una volta che siete in questa situazione aprite il menu di puzzle cliccate una volta A o X a secondo di dove giocate Poi cliccate il tastino a fianco con lo Start e aprite la mappa Una volta che avete aperto la mappa e avete tutte le opzioni icone mappa attive dovrete andare ad avviare una qualsiasi gara Una volta che siamo in questa schermata nera raga diciamo al nostro amico di fare tutti fuori E noi un secondo dopo dovremmo accettare l'allerta Se raga vi fa spawnare non in OTR o fuori da Night come in questo caso è successo a me non è venuto Dovete semplicemente ripeterlo Come capite che state facendo il glitch correttamente adesso ve lo faccio vedere Quindi mi faccio rinvitare ragazzi dal mio amico all'interno del Terabyte E una volta che mi manda l'invito senza nessun problema lo accetto Una volta che siamo all'interno del Terabyte come prima raga dovremmo dire al nostro amico di mettersi lì dalla porta di uscita In modo che abbia lo switch tutti fuori Una volta che il nostro amico è lì noi potremo aprire il menu di pausa raga E andare ad avviare una qualsiasi attività di queste qua sulla mappa A questo punto quando siamo in questa schermata nera gli diciamo di fare tutti fuori E capiamo se abbiamo fatto giusto perché quando noi accettiamo questa alerta lui lampeggerà come vedete in basso a sinistra A questo punto una volta che siete nell'attività semplicemente la quittate ragazzi E una volta che l'avrete quittata e sarete di nuovo in free mode Io direi sbada bam raga perché saremo in OTR cioè nessuno ci vedrà sulla mappa E potremo morire quante volte vogliamo e saremo sempre in OTR Purtroppo con questa OTR non si riesce a fare il com to com raga perché non possiamo richiederlo E anche se lo richiedete prima il com poi sparirà Se trovate voi un schermotaggio o qualcos'altro per sfruttare al meglio questo OTR ragazzi Scrivetemelo nei commenti sono felice di portarvelo appena posso Bella regam alla prossima Sbada bam E auguri di buon anno raga se non ci sentiamo E passate varrà bene Ciao